Ben rientrati in studio, un traguardo di prestigio per la Chiesa del Rosario che già da dieci anni è online con il suo sito internet. Un servizio in più per i parrocchiani che continuano a crescere di anno in anno. Era il 14 marzo 2002 quando veniva pubblicato per la prima volta il sito internet della parrocchia Madonna del Rosario. Grazie al parroco Don Pasqualino Ricciu che da subito ha sostenuto con convinzione il progetto, la parrocchia di Via 20 Settembre è stata una delle prime in Italia ad aprire una finestra nella rete con un proprio spazio. Per quanto realizzato interamente nella comunità, in dieci anni di presenza sul web il sito ha riscosso sempre maggior interesse e ha consentito di mettere a disposizione di parrocchiani e non un importante mole di documenti che con l'ultima revisione avvenuta circa due anni fa è ulteriormente cresciuta, tanto da aver dovuto decuplicare le pagine passate da circa 30 a quasi 300 e registrando un numero di visitatori medi giornalieri da dieci del primo periodo ai circa 30 attuali. In questi anni certamente la novità più importante, fanno sapere, è stata la nascita della piccola web tv sulla quale hanno pubblicato e continuano a pubblicare filmati legati alla vita parrocchiale. E proprio questa ha di recente prodotto 13 straordinari video interviste con Monsignor Piero Giglio, che con pazienza ha accettato di illustrare il credo, i fondamenti della fede cattolica, illustrate in maniera chiara, semplice e affascinante. Le ultime produzioni documentano invece gli incontri dell'Alexio Divina sul Vangelo di Marco, che il Vescovo Monsignor Morfino tiene ogni mese per la zona di Alghero, proprio in parrocchia. Tutte le produzioni più recenti ospitate nel canale YouTube di Alghero.org sono realizzate in full HD. Nei programmi futuri si prevede di incrementare ulteriormente i documenti della web tv. Inoltre, nelle prossime settimane, sarà lanciato un nuovo servizio, attualmente presente solo in versione di prova, grazie al quale sarà possibile leggere i brani biblici di ogni domenica e ascoltare le corrispondenti omelie dei sacerdoti della parrocchia del Rosario. A 90 anni dalla nascita di Pasolini, lo Spazio T celebra la vita di uno dei maggiori artisti intellettuali italiani. Dedicando il consueto aperitì, assaggi di teatro e di cibo, all'opera di chi amava profondamente la vita e affermava «Io divoro la mia esistenza con un appetito insaziabile». Domenica 18 marzo, a partire dalle ore 19, gli attori Maurizio Pulina, Chiara Murru e Giuseppe Ligios leggeranno alcune poesie tratte dalle numerose raccolte dell'autore, tra le quali «La religione del mio tempo» del 1961 e «Poesia in forma di rosa» del 1964. Oltre ai versi verranno proposti video e immagini dell'artista. Dopo il reading, come di consueto, gli spettatori verrà offerto un aperitivo. E apriamo come di consueto la nostra pagina sportiva del sabato con il calcio d'eccellenza. Mancano cinque gare alla fine della stagione regolare e mentre la Torre si prepara a festeggiare la promozione in D, il discorso play-off resta aperta. L'Alghero ospita il Pula, mentre il Fertilia sarà impegnato nella difficile gara contro il Taloro Gavoi. Il campionato di eccellenza sta avvolgendo al termine. Quello di domani sarà il turno numero 30, la tredicesima giornata di ritorno. In attesa del derby che le opporrà domenica prossima al Mariotti, le due formazioni locali sono attese da altri due impegni non semplici. Il 1945 Alghero reduce dalla brutta sconfitta per 3-0 sul campo del Castelsardo, ospite il Pula. Una gara nella quale i giallorossi vogliono ritrovare la vittoria che le consentirebbe di stare nelle posizioni alte di una classifica oramai corta per quanto concerne la lotta per i play-off. All'andata era stato il Pula a superare gli algheresi sul proprio campo infliggendo una pesante sconfitta per 4-1. Domenica scorsa i cagliaritani sono stati battuti dal Taloro Gavoi che con questo successo ha raggiunto proprio i catalani al quarto posto a quota 51. Mister Calvia non potrà schierare domani Stefano Peane e Gianluca Barrocco, entrambi infortunati. E proprio il Taloro sarà l'avversario domani del Fertilia, terzo della classe. Una gara interessante che promette spettacolo viste le compagini in campo che bene stanno facendo in questa stagione, in special modo il Fertilia. I giuliani di Mister Pabar, reduci dal pari interno con il Salluri per 0-0, hanno mostrato qualche segno di stanchezza, ma si sa che per mantenere il terzo posto è necessario continuare a fare bene anche nello sprint finale. L'Olbi ha distancora 9 punti e dunque i play-off sono alla portata, ma è necessario che i galluresi non scappino. Di contro troveranno un Taloro che è più motivato a continuare la serie positiva e migliorare la propria classifica. Intanto la torre scapolista indiscussa della classe regina domani potrebbe festeggiare al Vanni Sanna la promozione in D. Nel campionato di promozione si gioca domani il decimo turno di ritorno del campionato. L'Olmedo, reduce dalla vittoria 1-0 contro il Borore, la sua seconda stagionale sarà impegnato domani in un match proibitivo in casa della vice capolista Tempio. Anche in seconda categoria si gioca il medesimo turno. La Petraia Alghero, reduce dalla vittoria 2-1 sul Florinas, sarà impegnata domani in un altro scontro diretto in casa del San Domenico, l'undici di Correddu e terzo a 42 punti insieme all'Atletico Uri. Il Maristella deve cercare di approfittare della gara di domani che la vedrà opposta alla penultima della classifica, il Nikejon. La formazione di Mr. Angel Bardini è reduce del buon pari contro l'Uri. I bianco-verdi hanno in classifica 23 punti. Ed ora passiamo al basket. La Mercedes cerca punti fondamentali per restare anche nella prossima stagione in serie A2. Le bianco-azzure di coach Pacariè sono attese domani dalla prima di due sfide casalinghe che le opporrà a Dudine e Muggia. Contro le friuliane, settime della classe, non sarà facile, ma gli algheresi devono cercare di fare il risultato e muovere la loro classifica che adesso le tiene in bilico. Nel campionato di serie A2 femminile di basket si gioca questo fine settimana l'ottava giornata di ritorno. La Mercedes di coach Andrea Pacariè cerca punti fondamentali in chiave salvezza e il calendario dà la possibilità alle bianco-azzure di disputare due importanti partite sul parquet casalingo del Palacorbia. Obiettivo battere almeno una tra Udine e Muggia e muovere la classifica. Domani alle 19 nel palazzetto di Via Pacinoti arriva la del Serudine, settima in classifica con 22 lunghezze a pari punti con Marghera. La formazione allenata da Gianluca Abigente ha nel suo rullino 11 vittorie e 10 sconfitte, l'ultima delle quali ottenuta in casa proprio contro Marghera. Re friuliane possono contare su un buon reparto di lunghe con la Letto Neve in Berga, la Romagnoli e la De Gianni, una buona guardia come la Vincenzotti e un buon playmaker, Madonna. In casa Mercedes preoccupare è l'infortunio occorso a Elisa Donati in allenamento. La play bianco-azzurra si è infatti fratturata il naso e bisognerà valutare se potrà scendere in campo magari con una protezione. Certo è che alla Mercedes servono punti per evitare una retrocessione diretta. Palla 2 domani alle 19 al Paracorbia. Arbitreranno i signori Marco Liberali di Milano e Michele Leoni di Cantù. Ed ora sentiamo l'intervista realizzata proprio a Elisa Donati che si spera possa essere in campo domani nonostante l'infortunio al naso. La playmaker toscana ci ha presentato la gara contro l'Udine. Elisa Donati della Mercedes Baschetta Alghero siete attese da una gara importante in casa con Udine la quale seguirà un'altra gara a casalinga con Muge. Diciamo che sono due incontri un po' fondamentali. Sicuramente sono le due gare che cambieranno il nostro campionato. Innanzitutto è importantissimo portarle a casa tutte e due perché la situazione cambierebbe notevolmente e ci permetterebbe di evitare l'ultimo posto. Quindi saranno veramente due battaglie. Veniamo appunto da una gara con Bologna giocata bene e purtroppo persa per episodi perché forse ci è mancata un po' la... non lo so, forse abbiamo avuto un po' paura di vincere, diciamo così. E quindi domenica sarà importantissimo mettercela tutta anche perché a questo punto dovremo veramente tirare fuori tutto quello che abbiamo per portare a casa questi due punti. Udine è una squadra... all'andata abbiamo perso giocando una partita veramente brutta. è una squadra che ha una buona classifica non so se è quinta o sesta è una squadra completa che non ha... ha una buona straniera che non ha delle... non ha una... diciamo una vera leader però ha dieci giocatrici che possono veramente stare in campo e fare bene. Quindi sarà importante veramente giocare con attenzione. Domenica 18 marzo la società sportiva Judo Club Alghero organizzerà presso la palestra di Via Kennedy la seconda manifestazione propedeutica non agonistica denominata Coppa dell'amicizia. Alla manifestazione giunta alla venticinquesima edizione è prevista la partecipazione di circa 200 piccoli judoka provenienti da gran parte della Sardegna. Domenica 18 marzo la società sportiva Judo Club Alghero organizzerà presso la palestra di Via Kennedy 150 la seconda manifestazione propedeutica non agonistica di Judo riservata alle classi giovanili pre-agonistiche bambini, fanciulli e ragazzi 5-11 anni. Alla manifestazione denominata Coppa dell'amicizia è giunta alla venticinquesima edizione è prevista la partecipazione di circa 200 piccoli judoka provenienti da gran parte della Sardegna. Hanno infatti aderito alla manifestazione diverse società di Sassari, Nuoro, Macomer, Olbia, Tempio, La Maddalena, Cagliari, Sedilo, Bosa, Isili ed Orgali. I mini judokas si confronteranno oltre che in incontri di judo in attività ludiche di giochi e percorsi. Il maestro Gavino Piredda, la guida del judo club Alghero organizza da più di 20 anni questi eventi riservati all'attività giovanile riscontrato quanto siano importanti queste esperienze oltre che per la crescita psicofisica e caratteriale dei giovani allievi anche per la loro eventuale futura carriera agonistica. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio le previsioni meteo. Arrivederci!